Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, dunque campionato primavera, Juventus che perde la sua imbattibilità il Palermo vince a Vinovo 2-0 con le reti di Lucera e Mendola è partita che figlia di un primo tempo dall'atteggiamento indecente che credo che servirà a questi ragazzi perché li rimetterà penso sulla via giusta perché l'atteggiamento della Juventus nel primo tempo è stato a dir poco penoso e tanti errori di una semplicità incredibile nell'impostazione, nei passaggi semplici, di sufficienza e Palermo ne ha approfittato con una grinta, una cattiveria agonistica eccezionale tra l'altro credo che la Juve abbia pagato anche l'inserimento di Bandeira nella Juve sulla corsia di sinistra in quella corsia c'era Rizzo che gli stava sempre dietro, Bandeira non era mai in linea con i due centrali e quindi alla fine il Palermo in quella corsia lì ha veramente fatto quello che voleva ha veramente fatto quello che voleva, Rizzo è stato devastante su quella corsia e la Juve non è riuscita a chiudere mai ovviamente la Juve ha giocato a due in difesa che secondo me non te lo puoi permettere in nessuna categoria e ha pagato, credo che queste partite servano per far crescere la squadra ci sta, ripeto, poi da inizio anno non aveva ancora perso la Juve, secondo me già con l'Inter ha pareggiato una partita che sembrava persa il Palermo oggi ha avuto meriti, credo che oggi abbia vinto soprattutto per i demeriti della Juve che ripeto è entrata molto male in campo, poi chiaro nel secondo tempo il Palermo si è chiuso la Juve non è riuscita a trovare i guizi giusti adesso viene una partita difficilissima con il Manchester che secondo me è molto probabile che la Juve non vincerà e quindi soprattutto io credo la prossima partita di campionato della Juve che non mi ricordo contro chi gioca in campionato sarà fondamentale per il proseguo di questa stagione dunque Palermo batte Juventus a V9 2-0 a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento per i prossimi video ciao